Ciao a tutti ragazzi, siamo due fratelli, siamo due fratelli Novak, il nostro gamertag è patjar2013, abbiamo 13 amici online momentaneamente, ora cominceremo un nuovo mondo in sopravvivenza, è il secondo video che facciamo di Minecraft, non insultateci per favore, scusateci, erorizzate di nuovo come nel primo video, e ride, non sappiamo fare, non sappiamo ancora far bene però presto ci abitueremo e impareremo sempre di più, il nome del mondo è YouTube perché cazzo insieme a casa, in questo mondo nuovo, in sopravvivenza per fare, ovviamente da fare non c'è una cosa meridiosa, appunto, siamo nelle vacanze natalissie, siamo a casa per un bel po', e niente, si inizia l'intenzione, io mi chiamo Patrick, per questo iniziale gamertag è Pat, Pat Patrick, quindi ho 16 anni, invece io mi chiamo Yarek, appunto, dopo c'è Yarek, ciao a tutti ragazzi, sono Patjar2013, io sono sempre Patjar2013, però uso un altro profilo per giocare anche il giocatore, schermo condiviso, schermo condiviso, siamo qui su Minecraft con la nostra, con il nostro secondo video per ora, temporaneamente, siamo vicini, eccoci, prendiamo tutto io, poi lo dividiamo, ovvio, ovvio, ci si deve sempre aiutare, e ti chiamo tutti i piedi, adesso faccio il tavolo da l'avore, e te lasci, ok, ti lascio guarda, però ci mettiamo qui in basso, va bene, no, questo albero qui lascio, andiamo qui sugli alberi più grandi i bastoni no i bastoni non è più vabbè ho messo la linea lì vado a farmi qualcosa siamo anche lì dal punto dobbiamo trovare una casa già corta io preparerei perché comincerei a trovare una casa nei tra gli alberi ma non cominciamo a far subito la casa eh lo so prima abbiamo un materiale dobbiamo mangiare sto prendendo la linea e comunque ripetiamo dentro la casa ci sono 15 assiedi non ci ho pensato stavo dicendo come primo video vi ripetiamo che siamo nuovi cioè non abbiamo esperienza a fare i video di vari giochi come fanno molti e quindi il messaggio scusate per favore non insultateci se sbagliamo a dire qualcosa o se facciamo qualcosa di sbagliato però vi ripeto siamo nuovi eh sono uomini eh niente Patrick eh trasformo tutto il vaso sì che bello facendo facendo un piccolo spazio per metterci qui cerchi di fare anche una porta se riesci certo ho preso il vendello ho preso il vendello che è qui ho preso il vendello portare la roba qui dentro così ci ripetiamo dopo che c'è la notte eh ho una porta no riusciamo a provare più facilmente io mi sono forza dentro e l'alternato ci interi allora un po' di cioccoli che ci farei roba di pietra no vabbè io ce l'ho no no aspetta io tanto vado a prendere un po' di cioccoli se ne trovo un po' allora bene adesso comunque con i giochi abbiamo esperienza ovviamente però eh non tanto cioè in youtube come dire quindi non c'è che non c'è non c'è non c'è una piccotta di pietra allora ci interessa una spada di pietra sto prendendo il salto va bene mi sembra un po' di carbone comunque ehm vi ripeto i video che carichiamo su il computer che potrete vedere sono fatti cioè sono stati girati sul xbox 360 eh non faremo video di giochi per computer però ci chiamatevi come volete ma solo per eh questa console qui è 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 Allora, ho messo genere struttura però non c'è niente. Niente, niente. C'è la neva. Ecco. Sì, mamma mia, ho trovato una grotta. Entro solo così a vedere se c'è del ciotto, ma ho subito trovato del oro. No, scusate, è terra. Che brava. Infatti, se ti va, vieni a guardare. Se ti va e se ti interessa condividere l'interno con me, di cui io condivido con te, tanto lo farò sempre e per sempre. Mi hai trovato parecchio però, eh? Eh già, e sono appena entrato. Quindi immagino che mi si può trovare dopo. Esco, sì, sì. Allora... Esco adesso da qui, finché non metterò la luce per te. Guardanti da... Infatti non si vede nulla qui. La poso e non si vede nulla qui. Perciò mettere delle luci, no? Non ho, non ho forse, non ho niente. Sì, stupido. Eh, non ne ho. Sì, stupido. Non si vede nulla. Trattura generata. Non prenderò un po' di cibo. Ecco, fai la zona a cosa. Eh, c'è un cibo di via. Ancora? Ancora, perciò in veste. Ricorrendo. Pronto il maiale tra me che prendiamo. Sporre. mucca patta 15 di pezzi che bel bottino io sono in cerca di di strutture io sono in cerca di mangiare ho bisogno di mangiare porca miseria possibilmente provi a mangiare io ho del cibo o morelli fai una roba fai un po' sono bella vieni a vedere non piangi vieni a morire non riesco prima di tornare a casa fantastico olio crudo grazie costoletto e mangi vieni a prendere la roba e ora che ci arrivo non so neanche più tornare a casa sta facendo buio o il mondo la rocce mi si riesce a scriver e lei sta a prendere la roba io potrei volare volando no vabbè, ho cercato di arrangiare così devo prendere la roba, ho fatto molto ferro e mi piacerebbe ferro ma io spesso, sono molto distante, c'è anche la mappa con te, però non so che vuoi ascolta, vengo fino da te, ok? si, è strano perché io ho trovato la roba oh mamma, non c'è il pezzo della lava ma non c'è la lava, non c'è il pezzo allora, tira fuori la mappa a te, io ti vengo a incontro ah, ecco, dove fai? ah, ecco, dove fai? io sono il bianco, dov'è che sono? eh, sono un bagno, non posso sentire lo bello, devi andare dall'altra parte eh, da me da montare, da me da montare da me da montare ti amo che cerchiamo di trovare casa ah, ho paura che... infatti si trova il ragno di me chi no? dove sei? guarda 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 ce l'hai con te ecco mi sono perso è una più ragione mi sono perso d'accordo